T-Quick Winner, benvenuti, una sfida vinta contro la crisi e chi è riuscito a vincere questa sfida ce l'abbiamo qui con noi è il dottor Roberto Canali, benvenuto intanto. Buongiorno. Allora dicevamo una sfida vinta contro la crisi perché in controtendenza rispetto a tante altre aziende che in questi ultimi anni hanno chiuso, hanno avuto grosse difficoltà, voi nell'ultimo decennio siete riusciti addirittura a sestuplicare il fatturato. Sì esattamente, noi festeggiamo i 50 anni di attività, la nostra è la seconda generazione di imprenditori, noi siamo tre fratelli e soci su entrambi le attività, sono due marchi commerciali e noi produciamo articoli per il settore della cucina e diciamo che la nostra corsa e la nostra performance inizia nei primi anni di 90, esattamente nel 1993 dove succediamo a nostro padre e dove decidemmo di spostare il focus da articoli nel settore del mobile, camere e camerette e spostarlo prevalentemente sul settore cucina e da lì decidemmo di produrre esclusivamente articoli di nostro design e promuoverli un po' in tutto il mondo, diciamo che la nostra produzione all'estero inizia a fine anni 90 con la partecipazione ad alcune fiere internazionali e da lì insomma poi le cose sono venute da sole con la conquista di mercati e la conoscenza di distributori e agenti. Certo, quindi siete nati nel 1964, anni 90 poi questo salto e i passaggi più importanti successivi quali sono stati? Allora il passaggio più importante è stato il passaggio generazionale che solitamente crea grosse difficoltà, noi fortunatamente, forse perché siamo tre fratelli, anzi credo che sia stata un'arma vincente questa. I fratelli sono più bravi in questo dicono, vero? Abbiamo appurato anche la tua realtà. Si lavora quando si riesce a avere una serenità tra fratelli, è sicuramente una forza. Siamo subentrati al nostro padre per cause e forze maggiori, ossia il nostro padre era colpito da malattia e da lì a qualche anno si infermerà e quindi siamo obbligatoriamente succeduti a questa attività. Tra i fratelli come vi siete divisi i compiti? Ci siamo divisi ognuno con i propri spazi, diciamo che il mio fratello più giovane segue la parte commerciale, il più vecchio la parte amministrativa, io seguo la parte organizzativa e produttiva. Quindi poi un buon passaggio perché negli ultimi 10 anni abbiamo detto in controtendenza risultati molto positivi. Come avete fatto? Come ci siete riusciti voi? Abbiamo seguito tutte quelle cose che solitamente vengono forse dette e poco praticate. Noi ci abbiamo creduto, abbiamo creduto nella personalizzazione dei prodotti, abbiamo creduto nella soddisfazione dei clienti e nel creare gruppo all'interno dell'azienda. quindi creare soddisfazione all'interno dell'azienda, stimolare il personale, i collaboratori, il promuovere delle linee commerciali vincenti, quindi abbiamo lavorato su parecchi fronti e non ultimo il fatto che nel 2010 abbiamo fatto un'acquisizione di un nostro competitor. Questo proprio in piena crisi e perché ritenevamo che potesse essere la mossa vincente per noi come si è dimostrata, acquistando questo nostro competitor che era in una crisi profonda e successivamente mettendolo poi in una situazione di autosufficienza per quanto riguarda la fase produttiva e commerciale, potenziando quest'ultima. Come ultimo passaggio quello di trovare e acquisire un nuovo stabilimento che siamo partiti a fine dell'anno scorso a Treviso con nuove tecnologie, quindi nuove potenzialità per poter ridurre quelli che sono i costi aziendali. E poi anche il salto sui mercati esteri comunque, perché questa scelta? Cosa vi ha portato? Allora, la scelta ai mercati esteri è iniziata a fine anni 90, primi anni 2000, con la partecipazione in primis a una fiera internazionale di Milano, alla SASMIL e da lì la conoscenza di alcuni operatori ai mercati esteri. Abbiamo avuto l'onore di conoscere un paio di persone che poi sono diventate dei nostri collaboratori fidati nel mercato indiano, con i quali abbiamo stretto prima una collaborazione e poi una società e abbiamo messo su una società di commercializzazione nel mercato indiano a Nakpur e da lì abbiamo iniziato ad espanderci non solamente nel mercato indiano, ma anche in tutti i paesi arabi, nel Nord Africa, lavoriamo qualcosa negli Stati Uniti e non ultimo abbiamo iniziato l'anno scorso una valutazione e una ricerca nel mercato cinese per poi iniziare con quest'anno con una fiera mercato cinese e con dei contatti da poter sviluppare in quell'area. Diciamo che noi abbiamo sempre creduto che la differenziazione delle vendite nei mercati sia importante perché riesce a vincolare meno l'azienda rispetto a un mercato o un continente, quindi il fatto di frammentare sempre di più quelle che sono le vendite, quelle che sono i clienti è sempre stata e crediamo che sia l'arma vincente anche per il futuro, per non esporsi troppo rispetto ai volumi che si fa con un cliente o con un mercato ed essere meno a rischio come diversamente oggi troppe aziende sono dovute incappare in situazioni concorsuali o di fallimento anche per questi motivi. Quindi alcune mosse vincenti, un buon passaggio generazionale, abbiamo visto questo sbocco sui mercati esteri, le acquisizioni nei momenti giusti forse comunque vi hanno aiutato anche in questo, risultato siete passati da 1,5 a 12 milioni di fatturato negli ultimi dieci anni, altre mosse vincenti poi anche il coinvolgimento dei vostri dipendenti. Anche questo è stato un argomento che abbiamo iniziato parecchi anni fa, abbiamo iniziato con dei professionisti che ci hanno aiutato inizialmente a comprendere, intanto a capire se noi avevamo la volontà di cambiare prima noi dei nostri collaboratori, perché il tutto secondo noi nasce da qui. La nostra voglia di fare e di crescere era ed è tanta e per questo eravamo disposti a cambiare anche le modalità che avevamo messo in gioco fino a quel momento e quindi ci siamo fatti appoggiare a dei professionisti i quali ci hanno in una prima fase aiutato a capire quelle che erano le difficoltà e poi man mano abbiamo messo in piedi dei cantieri di lavoro all'interno dell'azienda sulle varie aree produttive, in laboratorio, piuttosto che nel reparto magazzino logistica, piuttosto che nella parte commerciale etc., e negli anni è un lavoro che abbiamo capito e pensiamo che non si possa fermare, è un stimolo che dobbiamo dare continuo, è un miglioramento che cerchiamo di dare ma anche di ricevere dai nostri collaboratori. E poi anche la trasformazione Snell, quindi per snellire i vari processi. Assolutamente, questa è una fase che è succeduta alla prima, che ha portato una volta, dopo aver coinvolto i nostri collaboratori a farci dare anche degli input operativi sui miglioramenti e quindi nell'operatività quotidiana poter comprendere quali strumenti adottare, come adottarli e le soluzioni che potevamo trovare nell'immediato. I risparmi dove siete riusciti a individuarli e a farli e invece i guadagni dove li avete cercati? Allora li abbiamo trovati naturalmente negli sprechi, nelle ottimizzazioni produttive, nelle ottimizzazioni produttive trovando anche nella logistica, nella disposizione dei macchinari e del layout della fabbrica, la disposizione più opportuna. E poi man mano che trovevamo la giusta disposizione anche degli accogimenti tecnici in quelle varie fasi, in quelle varie operatività. Cosa significa per voi fare azienda? Riuscire a creare un gruppo di lavoro che sia prevalentemente omogeneo in quanto mentalità, in quanto volontà, per creare dei prodotti che possono dare soddisfazione alla nostra clientela e automaticamente anche al gruppo di lavoro che ci sta dietro. C'è una frase, anzi un paragrafo di Einstein che voi avete scelto, un po' come filosofia che compare anche nelle vostre realtà, nei vostri siti, nei vostri video e una delle frasi principali è questa che vi vado a leggere, la creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura, è nella crisi che sorgono l'inventiva, le scoperte, le grandi strategie. Perché questa scelta? Perché è sempre stato così, la storia lo ha dimostrato e la nostra storia lo dimostra che nei momenti di crisi del mercato internazionale noi ci siamo mossi come nell'ultimo acquisto che abbiamo fatto dell'azienda nel 2010, proprio nel momento in cui molti o tanti invece predilegevano le scelte diverse oppure quello di ridimensionarsi, quello di scegliere scegliere delle strategie più tranquille. Noi abbiamo sempre pensato che sono nei momenti di crisi che possono dar spazio alla fantasia delle persone e quindi alla creatività e da lì a poco la potenzialità delle aziende. Noi ringraziamo il dottor Roberto Canali che è stato con noi in questa puntata, ricordiamo che voi avete comunque anche alcuni siti internet, in particolare ho visto foapitaly.com se non sbaglio, e ce n'è qualcun altro? Sì, sì, www.opers.it. E opers.it, quindi se volete entrare in contatto con i fratelli canale, diciamo in questo caso, e avere informazioni, indicazioni o magari provare i loro prodotti, insomma, credo che saranno felici di accogliervi. Grazie ancora insomma per la sua partecipazione, per la sua disponibilità e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci presto. Grazie a tutti.